Eccoci con l'Avvocato Ginalupo, consigliere di parità della provincia di Taranto. Siamo all'inizio di questo 2019, però vogliamo fare un po' il bilancio di quanto realizzato dell'attività posta in essere nel suo ruolo istituzionale. Un 2018 con tantissimi interventi, girando qui e lì per la provincia di Taranto. I più significativi, le tematiche trattate, i risultati raggiunti, la valenza sociale di questa attività. Come hai detto tu è stato un anno faticoso, un anno che mi ha visto protagonista in un momento, in un'attività forse più sommersa, che è quella di rispondere alle tante domande che le donne ci fanno e mi fanno quando magari sono vittime di un mobbing sul posto di lavoro o peggio ancora di molestie sul posto di lavoro. Oltre a essere coinvolta in alcuni procedimenti proprio giudiziali, perché lo voglio ricordare, la consigliera di parità provinciale interviene ad aduvandum l'eventuale avvocato che supporta e difende una lavoratrice vittima di questo tipo di reati, sia in campo civile che in campo penale. Quindi questo è un tipo di attività, Luigi, che non viene magari recepita all'esterno, ma che mi vede incessantemente all'opera insieme al mio staff che è sito, lo ricordiamo, presso la provincia di Taranto. Oltre a questo c'è stato un lavoro incessante di sensibilizzazione, di diffusione verso la parità di genere, che poi è il compito precipuo che deve avere una consigliera provinciale di parità, come anche le commissioni consigliarie di parità. Quindi ho girato tutta la provincia di Taranto, la dove mi chiamano sono sempre presente, e ho svolto anche un lavoro cercando di sollevare, di sollecitare nei singoli comuni, alcuni sono anche molto giovani, si è votato appena un anno fa, alla costituzione, in seno al comune, delle commissioni pari opportunità. Perché occorre che l'idea delle pari opportunità sia presente anche nei comuni più piccoli. La consiglia provinciale è quella che raccorda un pochino tutte le attività, io faccio parte di diritto, lo dicono le norme, nelle singole commissioni presenti nei comuni. Però purtroppo non tutti i comuni sono dotati di questo strumento. La violenza di genere è stato uno degli argomenti maggiormente trattati, uno dei temi su cui si è soffermata l'attività della consigliera di parità della provincia di Taranto. Avvocato Lupo, un'azione capillare nelle scuole e nei comuni con il progetto Credevo Fosse Amore. Beh Luigi, se è anche vero che la figura della consigliera provinciale di parità è di promanazione del Ministero del Lavoro, quindi nasce originariamente per dare un sopporto alla donna, o anche l'uomo, che subiscono delle discriminazioni di genere sul posto di lavoro. Pensa ad un uomo a cui non viene riconosciuta magari la maternità, l'assenza dal posto di lavoro per maternità, una donna vessata nell'ambito lavorativo. Però è anche vero che noi ci stiamo occupando da anni anche del problema della violenza di genere. I dati in Italia non sono confortanti. Tu sei stato affianco a me in ogni manifestazione che incessantemente ho fatto, anche sia dal punto di vista di consigliera comunale, ma anche proprio di avvocato specializzato in questioni familiari. La violenza di genere è un tema che mi sta molto a cuore, per cui ho avuto, grazie all'ausilio del dottor Giuseppe Carli, che è uno psicologo, l'idea di creare questo progetto, che si chiama Credevo Fosse Amore, allarmata dai dati che mi venivano appunto dati, circa la violenza tra coppie giovanissime. Purtroppo la violenza è un elemento, è un fenomeno negativo che si evidenzia già dalle prime coppie, dai primi amori, dai primi innamoramenti in cui queste ragazzine subiscono magari pressioni sul loro modo di vestire, anche schiaffi a volte. Sono manifestazioni che le ragazzine devono imparare a conoscere per difendersi, che poi potranno scaturire su una manifestazione di violenza più grande, più allarmante. Quindi abbiamo pensato con questo progetto di parlare al cuore dei giovani e delle giovani. Grazie anche all'appoggio che ci hanno dato alcune scuole, abbiamo fino adesso realizzato questo progetto con l'Istituto Maria Pia di Taranto e con il Liceo Moscati di Grottaglie, attraverso 200 giovani sia in un istituto che nell'altro, quindi 400 giovani li abbiamo prima sensibilizzati con vari incontri su queste tematiche, sulla violenza di genere e la violenza domestica, poi abbiamo somministrato loro un questionario anonimo, di cui tra poco avremo i dati, che ci hanno permesso di comprendere come molto più spesso e frequentemente di quello che pensiamo i giovani sono a contatto di manifestazioni di violenza, quello che poi quando sono più piccoli viene anche definito un po' il bullismo, ma nella ragazzina è una vera e propria violenza anche fisica. Approfitto quindi per evidenziare che i dati sono allarmanti, un po' in linea con quello che accade nel resto dell'Italia, e il problema della violenza tra giovanissimi, quello che viene definito tra detti lavori il teen dating violence, è molto preoccupante e deve far sì che le istituzioni si facciano leva di questo problema, perché una ragazzina che è abituata a subire la violenza già dal primo fidanzatino sarà una futura donna che troverà normale e continuerà a subire dal compagno di vita. D'altra parte abbiamo un mondo maschile, che è quello fatto dai giovani, che deve comprendere che si ama con rispetto, che si deve comprendere che le ragazzine non si alzano le mani a nessun modo ad una ragazzina, ma non si controlla neanche il movimento di una ragazzina. Quindi è stata un'educazione di genere fatta su vari livelli nei confronti dei maschi e delle donne. È stato molto interessante e stiamo allargando questo progetto ad altre scuole liceali, di altre città come Massafra e Castellaneta, che mi hanno già chiesto di fare questo progetto nelle loro scuole a partire già da questo anno. Stiamo seguendo le varie iniziative dell'ufficio della consigliera di parità della provincia di Taranto. E però, Avvocato Lupo, ci dica come contattare, come poterla contattare, come poter contattare il suo ufficio, perché, ripeto, il suo ufficio assolve una funzione sociale rilevante. Ci sono tante, come dire, voci strozzate, tanti casi di sofferenza, che hanno bisogno, come dire, di un faro istituzionale appunto a cui rivolgersi. Beh, grazie, devo dire, all'intervento del neopresidente della provincia Giovanni Gugliotti. Abbiamo un sito che è inserito nella home del sito della provincia di Taranto, dove tutte le donne, tutti coloro che vogliono avere un chiarimento, vogliono anche denunciare una situazione di abuso e di violenza, possono chiedere un intervento, che poi sarà seguito in maniera assolutamente rispettosa della privacy e dell'anonimato, dobbiamo dirlo. E' nella home della pagina, dell'home page della page della provincia di Taranto. Basta andare a cliccare Consigliera di parità, ci sarà la scheda di adesione, con pochissimi dati, lo dico chiaramente, perché poi è bene che parlino con me per la loro narrazione più particolare. Questo permetterà di far scattare immediatamente un appuntamento con la Consigliera provinciale, in maniera tale da interfacciarmi alla persona che chiede aiuto, se vuole incontrarmi, oppure risponderò ai suoi quesiti direttamente attraverso la home page. Ricordo che la Consigliera di parità ha un ufficio inserito nella provincia, la provincia ci ospita e ci dovrebbe appunto supportare, ma devo dire come sta accadendo, il Presidente mi ha anche assicurato maggiore attenzione nella creazione magari di uno staff che possa collaborare con me, anche perché i paesi della provincia sono tanti e quindi occorre veramente fare un lavoro capillare di incessante. Il ruolo della Consigliera di parità della provincia di Taranto, ma di qualunque realtà, qual si voglia realtà italiana, ha necessità di confrontarsi, di rapportarsi con le singole commissioni per le pari opportunità che dovrebbero essere presenti appunto nei vari comuni afferenti alla provincia. A Taranto, nel comune di Taranto, dopo lunghi anni si è giunti a questo risultato nella nascita dell'insediamento di una commissione per le pari opportunità, una iniziativa che appunto deve così svilupparsi nell'intero arco ionico. Le fonti giuridiche di tutti questi organismi sono diverse. La Consigliera provinciale, come abbiamo detto in altre occasioni, è una promanazione del Ministero del Lavoro e si allarga sul territorio con la Consigliera nazionale, la Consigliera regionale e provinciale. Qui non è previsto proprio dalle norme una Consigliera comunale. Ma i comuni possono dotarsi di una commissione delle pari opportunità che può essere creata in maniera molto varia. Ad esempio, io ho creato un regolamento, d'accordo con gli altri organismi e gli altri consiglieri del comune di Taranto, che ha fatto sì che la Commissione delle pari opportunità fosse una commissione permanente, quindi rimane come le altre commissioni, però non con il gettone di presenza. Perché ritengo che quando si parla di temi come le discriminazioni di genere, come la violenza, non possiamo legarci al gettone di presenza, ma deve essere sentito come un fatto proprio spontaneo e naturale quello di collaborare. Ed è a membri di diritto, che sono le consigliere donne che sono state elette, perché poi questa commissione ha tutta la durata della legislatura e poi viene rifatta con le nuove elezioni, quindi la durata della durata del Consiglio comunale, però è prevista ormai, come ho detto prima, permanente. Ha dei membri di diritto, che sono le consigliere che sono state elette appunto dagli elettori. Ha la possibilità anche di avere dei membri esterni, laddove ci siano dei gruppi formati solo da consiglieri maschi, che non vogliono, perché io ho dato loro la possibilità di partecipare e l'uomo è ben accetto, perché credo che non dobbiamo essere noi discriminanti, ma che le commissioni abbiano proprio anche questo interfazio. Non sarebbe una discriminazione al contrario. Per cui io ho fatto sì che gli uomini consiglieri possano partecipare, però laddove loro vogliono dare spazio, perché magari ce l'hanno all'interno del loro gruppo di partito, una donna esperta nelle pari opportunità possa nominarla. Quindi ho membri di diritto e membri esterni con cui veramente collaboriamo. Abbiamo già partecipato a un primo convegno, è stato prima un test già operativo. Abbiamo in mente vari incontri per l'organizzazione di eventi, ma devo precisare che le commissioni comunali hanno un compito non di intervento nei processi, non di assistenza alla donna lavoratrice, ma più di sensibilizzazione e di diffusione nei confronti della violenza di genere e delle discriminazioni di genere. Questo è il nostro compito. Quindi, come vedi, è un po' complesso muoversi nell'oceano delle norme, perché comunque in Italia c'è questa sensibilità da qualche anno sulle pari opportunità. Occorrerebbe mettere ordine un pochino sulla materia, che soprattutto è anche giuridica e tecnica, perché occorre avere una profonda conoscenza dei vari collegamenti tra le norme. Allora, Avvocato Gina Lupo, consigliera di parità, un 2018 ce ne siamo occupati, abbiamo seguito le iniziative del suo ufficio. Guardiamo a questo 2019 quali sfide all'orizzonte. Beh, intanto il momento finale di elaborazione dei dati del progetto Credevo Fossamore con i 400 giovani protagonisti, sia in città che in provincia. La istituzione, l'avvio del progetto Credevo Fossamore con altre scuole, in altre realtà della provincia, come mi è stato richiesto. Dopodiché la messa in rete di tutte le commissioni pari opportunità comunali, con la creazione in quegli luoghi territoriali dove non c'è della creazione della commissione pari opportunità, per cui sto inviando il nostro regolamento comunale a vari comuni che me ne fanno richieste, ma è tale che possano prendere spunto, ma nessuno vieta loro di creare una struttura diversa, tutta esterna o tutta interna, chiaramente. Ma noi ci stiamo già rodando su questo sistema, soprattutto una messa in rete, perché non ci si conosce. Ora, io sono l'unico elemento di unione, se vogliamo, con le commissioni pari opportunità, perché la legge impone che la consigliera provinciale... Presenza di diritto. ...presente nelle commissioni, nelle singole commissioni dei vari comuni. Quindi, proprio sfruttando questa mia funzione, vorrei mettere in rete tutte le commissioni comunali, perché ci possa conoscere e si possa anche fare rete, cercando di porre in essere alcune azioni positive, univoche, perché più siamo, più forza abbiamo, nei momenti di maggiore attenzione da parte dei masse media, che sono le giornate storiche, 8 marzo, violenza contro la donna, del 25 novembre e altre, ma soprattutto studiare anche delle altre azioni che abbiano valenza nei confronti di tutto l'anno. Inoltre, il lavoro incessante che viene svolto, gratuitamente, laddove mi chiamano, ad andare a parlare, a colloquiare, insieme ad altri specialisti, psicologi, esperti di queste materie, ai giovani, direttamente a loro. Io credo molto in questo lavoro di sensibilizzazione a partire dai più giovani, soprattutto proprio i 14 anni, i 15 anni, che si trovano ai primi amori, alla prima elaborazione dei loro rapporti sentimentali, cercare di spiegare loro, di invitare la cultura di genere, ma senza tralasciare anche i più piccoli. Per questo è un lavoro che si deve fare anche negli asili, perché il bambino sin da piccolo deve essere abituato che la bambina non è un essere inferiore, la bambina può fare tutto quello che il maschietto può fare, può tirar fuori la sua creatività, la sua volontà, esattamente come un maschietto, e che soprattutto il maschietto la deve rispettare. È un lavoro, purtroppo, Luigi incessante, alla luce di tutti gli avvenimenti che si accapitano ogni giorno di leggere in cronaca. Un grande lavoro che ha, ripeto, una valenza sociale enorme, perché, ripeto, è un problema che non riguarda solo Taranto, ma basta sfogliare i quotidiani nazionali e vediamo che queste prevaricazioni sono purtroppo all'ordine del giorno. Allora, una funzione, appunto, sociale è quella del suo ufficio. Questa è una cosa che o la senti e la fai perché la senti di fare, ma non si può fare soltanto perché si è stata proposta. Oltretutto lei ha anche le competenze professionali per affrontare quelle tematiche. Noi abbiamo, tastiamo anche il polso del territorio, noi abbiamo detto già da tanto tempo, attenzione che ci sono in aumento i dati di violenza tra coppie giovanissime, e così è stato. Ho sollevato il problema della violenza della donna sulla donna, e gli ultimi casi di cronaca dove addirittura ci sono donne che uccidono, le altre donne per passione, per rivalità, mi dà ragione. Purtroppo la violenza è veramente senza genere ormai, non si può parlare più di violenza dell'uomo nei confronti della donna, ma viviamo momenti difficili anche a livello sociologico, a livello politico. È il primo luogo dove il disagio si manifesta, Luigi, consentimi di dire, lo dico da antiani, la famiglia. La famiglia è il primo luogo dove il disagio di coppia, il disagio genitoriale, il disagio dei giovani si manifesta, ed è lì che dobbiamo intervenire. E soprattutto non dobbiamo smettere incessantemente di fare un'opera di educazione al rispetto dai bambini più piccoli, perché sono loro le nostre speranze per il futuro.